Un post pubblicato sul profilo Instagram di Veronica Peparini mostra un'esibizione di Giulia Stabile. Le due si conoscevano già da prima del programma. Giulia Stabile è tra i concorrenti più amati di Amici grazie alla sua sensibilità e bravura. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente anche grazie all'amore nato tra lei e il cantante San Giovanni. È stata da subito la preferita di Veronica Peparini che l'ha voluta sotto la sua squadra. Ma Veronica Peparini e Giulia Stabile si conoscevano già da prima del programma? È vera questa voce? È stato scovato un video sulla pagina Instagram della Peparini, datato 30 settembre 2020, in cui si vede proprio Giulia ballare insieme ad un altro ragazzo. Questo farebbe intendere che le due già si conoscevano prima del programma. Ovviamente i fan, vedendo il video, hanno immediatamente capito che le due si conoscevano già prima che la ballerina fosse presa ad Amici. Ma nel mondo della danza è molto comune che vengano organizzati stage o eventi di questo tipo, non ci sarebbe quindi nulla di male o di sbagliato nel fatto che le due, maestra e allieva, si fossero già incontrate. Ma in molti si sono chiesti se questo precedente possa aver influito sui giudizi della Peparini. Nella didascalia la maestra ha scritto, Stavolta anche io voglio pubblicare un po' di video, sono sette e vorrei li guardaste tutti, perché a lezione ci sono sempre tante persone diverse che si danno alla danza, persone brave che è giusto far vedere. La bravura di Giulia non può essere messa in discussione, ma molti fan hanno sottolineato che questa conoscenza poteva essere portata alla luce subito, così adesso non si sarebbe creato lo scandalo. Ora sicuramente Veronica Peparini darà spiegazioni in merito, e così anche noi capiremo meglio come sono andate realmente le cose. Voi cosa ne pensate? C'è qualche giro strano, oppure è solo uno stage di danza? Fatecelo sapere nei commenti. Se vi è piaciuto l'articolo mettete un pollice in su. Grazie! Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie di Amici, iscriviti al canale e attiva la campanella.